... Seconda del convegno, un anziani sul miglio, sono in sette dietro le ali della macchina. Vitesplay, Romeo Gallucci al totalizzatore, anche questa è una corsa di solo femmine, categoria E, questa Conway Hall, allenata da Castiglia, la più gettonata. Alignamento che gradatamente va a completarsi e prende velocità il mezzo meccanico. Arretrato il sette di Urcia si anche vola via di No, che rinunciano al lancio. Chiusura. E si lotta, poi Vitesplay tenta di emergere, ma a largo incombe chiede strato, lo tiene UEFA Jet. E così al comando la lieve di Gallo, che va a completare il lancio in 13.6. Sposta prontamente Gallucci, ci sarà un classico freeway, come la scuderia di chi ha vinto qua il Filli, delle due anni, a Dagnano Domenico. 400 in 29.4 e Vitesplay, quindi a comandare The Operation. La figlia di Conway Hall, ora a grado a piacimento, sempre fila indiana, e va a completare i 600 iniziali in 44.8. Tutto sommato l'andatura non è male, è anche brillante. Questo è anche lo stato della pista che ha retto alla grande. Ci va al completamento del mezzo miglio iniziale, in un minuto abbondante, e le cavali affrontano il penultimo rettilineo. Non ci sono variazioni sostanziali, con la Vitesplay che allunga e va a completare il chilometro nell'ordine del 15.1. 14.4 di frazione, e sull'allungo repentino ne prende due o tre di margine a UEFA Jet. Le cavali affrontano la curva finale, in terza posizione Upper Danny. Aumentano da 4.5, passano anche a 6. Il vantaggio di questa Conway Hall. Retta d'arrivo e passerella per la lieva di Gallucci. Viene via bene Upper Danny e va su UEFA Jet. Mentre Vitesplay conclude easy, 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 c'è l'otto per il secondo e sul traguardo Upper Danny copre completamente UEFA Jet. 1.59.2, 1.14.5 per questo cost-to-cost rifinito alla grande da Romeo Gallucci, grazie anche al training speciale di Castiglia, i colori sempre di moda della Noma Farm, ma in salchi c'è lui, il ragioniere per antonomasia, Romeo Gallucci. 1.84 la quota al totalizzatore in chiusura. Bene Upper Danny, dopo l'ultima non tanto bella, si riprende egregiamente. Linea allo studio.